Adriana, sapete cosa c'è? Che con questa reazione esagerata che avete, dove siete tutte un po' coalizzate, scusate, date l'impressione come se ci fosse la voglia, scusami, eh no, fammi finire, fammi finire, come se ci fosse la voglia di dare uno scatto matto. Non lo puoi sapere, non lo puoi sapere, non lo puoi sapere quando ti senti discriminato, escluso, ti dicono che sono allegra di merda, solo l'avevi in tutto, non lo potrai mai capire tu, cioè, no, perché non lo sanno, non lo capiscono, no, le persone, no, le persone, no, perché dice che stiamo ingegantendo, ma ingegantendo. Ulù, per piacere, ti siedi? Le persone, le persone bianche non potranno mai capire, a che stagione c'è le persone bianche? Allora, scusate un secondo, allora adesso per piacere, per piacere vi sedete, per piacere vi sedete e recuperate un po' di calma. Allora, mi togliete l'audio perché a me queste sceneggiate non piacciono per niente, scusate, lo dico per voi a casa, perché non mi va. Allora, mi togliete l'audio.